Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Sono qua per farvi un mitico video Ha-Hool, Ha-Hool, super shopping acquisti Ha-Hool, Ha-Hool, Ha-Hool Ragazzi ho comprato un sacco di roba e l'ho accumulata e poi ho pubblicato tante belle foto su Instagram a proposito seguitemi anche su Instagram Carlita Dolce nel mio profilo e la pubblico un sacco di foto belle e mi chiedevate notizie sui capi di abbigliamento quindi non vi devo l'ora di fare questo video adesso vi faccio vedere tutto e seguitemi anche su Instagram perché ci sono tante belle foto con questi vestiti che pubblicherò nei prossimi giorni Allora, la prima cosa che vi voglio far vedere è una cosa stupendissima che vi consiglio anche per Natale se ancora non avete fatto i regali di Natale ultimato, un regalo last minute che vi fa fare bella figura avete uno sconto ottimo ed è bellissimo i cofanetti Daniel Wellington ragazzi sono stupendi io ogni anno li prendo adesso ne ho presi due sono presi due uno per mia cognata for woman, scusate e uno for man per una persona molto speciale di fare regali o autoregali quindi per voi stessi per donna e uomo e la cosa bella è che questi cofanetti fanno fare una bella figura gli orologi Daniel Wellington ragazzi sono stupendi e poi praticamente avete oltre allo sconto che è Carlita 15 avete anche quindi il 15% di sconto è cumulabile con gli sconti presenti sul sito perché Daniel Wellington fa un sacco di sconti per Natale se trovate degli sconti sul sito voi mettete comunque Carlita 15 perché lo sconto è cumulabile quindi wow diventa uno sconto grandissimo e in più vi danno anche il citturino in omaggio allora questo è il cofanetto che ho scelto per mia cognata è stupendo con l'orologio che è bellissimo questo in oro rosa con il quadrante bianco e il bracciale abbinato viene fighissimo e fate una bella figura ragazzi poi sono di qualità io da anni uso gli orologi Daniel Wellington sono proprio buoni quindi ve li consiglio poi è bella anche la confezione guardate che carina e invece da uomo ve lo voglio farvi dire magari per i vostri fidanzati papà sono belli poi ormai sono di tendenza tutti hanno gli orologi Daniel Wellington perché sono proprio buoni questo praticamente è quello che potete regalare avete il cinturino in omaggio oltre allo sconto Carlita 15 che vi ho riservato quindi vedete questo è l'orologio ed è stupendo guardate tutto un materiale bellissimo di qualità e qua questo è il cinturino che si può cambiare ed è in omaggio quindi approfittate ragazze vi metto il link del sito e il mio codice sconto nel box informazione sotto grazie quante belle cose ho comprato allora innanzitutto prima di iniziare ragazzi vi faccio vedere i miei fantastici gioielli che già state comprando in tantissime che li trovate su caritashop.com già da qualche giorno quindi stanno andando a ruba quindi andate a vedere cosa è rimasto perché vanno a ruba sono stupendi la mia edizione natalizia appunto ci sono gli orecchini con i corni la collana con i corni e il bracciale con i corni quindi una fantastica idea regalo argento e oro vi ricordo sono materiali pregiati e la collana con le medagline comunque ragazzi venite su caritashop.com e scegliete i vostri gioielli fate in fretta perché vanno a ruba e sono anche scontati quindi approfittate e poi per quanto riguarda il trucco che già so che mi chiederete vi metto nel box informazione tutti i prodotti che ho utilizzato che trovate sul mio shop online ovviamente maia invece ve l'ho mostrata nello scorso video acquisti a haul quindi caso mai ve lo metto qua nelle schede andatela a vedere perché è bellissima questa maglia che ho comprato sempre di recente questa l'ho presa però a Milano però il negozio c'è in tutta Italia comunque andate a vedere il video e adesso iniziamo subito sono andata da Elisabetta Franchi e ho comprato delle cose stupende allora queste cose qua le ho prese all'outlet quindi non so se si trovano ancora perché all'outlet si trovano cose un po' di edizioni vecchie poi ho preso anche una borsa alla boutique proprio ufficiale di Napoli Elisabetta Franchi quindi quella là è un'edizione che trovate ancora adesso questo è bellissimo è un body ho fatto anche la foto su Instagram adoro è un materiale ragazzi stupendo a me poi piace tantissimo Elisabetta Franchi come stile ma anche lei come persona perché lei ama gli animali insomma tutta la sua storia mi piace un sacco e comunque i capi sono sì di lusso sono costosi ma non eccessivi quindi comunque insomma soprattutto all'outlet si possono abbordare quindi secondo me sono per tutte le donne è molto bello questo body che si allaccia così ok abbinato ragazzi a questo body non sapevo cosa prendere quindi alla fine come mio solito carità stile ho preso tutto ci ho preso sia il pantalone che è bellissimo questo vabbè ve lo devo far vedere indossato è stupendo come calza e c'è appunto il logo Elisabetta Franchi il body va dentro sembra una tuta infatti alcuni mi avete chiesto ma è una tuta no praticamente è spezzato e ho preso anche la gonna ragazzi perché vi giuro è stupendo non sapevo cosa scegliere la gonna questa qua è avvitata ed è bellissima quindi non vedo l'ora di mostrarvi questi outfit vedete questa qua per esempio la gonna l'ho pagata 116 euro all'outlet comunque i prezzi sono abbordabili comunque le cose sono stupende poi ho preso questo completo che adesso si sta portando un sacco questo tipo di tessuto fatto così e questo abbiamo fatto una foto stupenda io Armando andatela a vedere su Instagram io che cammino sulle strisce pedonali li eravamo a Roma stupenda sembrava una copertina di un giornale con questo completo che in tanti mi avete chiesto allora questo qua è della marca contatto ed è bellissimo un materiale molto molto morbido e comodo e sopra ragazzi viene questo top che è tipo una canotta bellissima ragazzi adoro ditemi se no comunque è finissimo addosso adoro ragazzi poi ho preso queste scarpe la borsa di Elisabetta franchi ve la faccio vedere alla fine perché è bellissima è della ciligina sulla torta allora ho preso queste scarpe che sono stupende sono di mango e costano anche poco tipo pagate intorno ai 40 50 euro voglio mettermi così perché lo voglio far vedere il mio bracciare carlita giulli è stupendo ragazzi quindi ecco qua è stupendo poi portano fortuna e corniglie poi il rosso ci va tanto col Natale io adoro questo look mi piace un sacco come sto vestita a voi piace? tanto mi piace anche a me comunque di solito non mi piaccio mai comunque queste scarpe sono stupende ragazzi sono scarpe a calzino adesso si portano un sacco solo di mango e le ho pagate dicendo intorno ai 40 50 euro però mi ricordo che tipo nel negozio mi dissero l'ultimo numero che erano tipo andati a ruba perché si stanno portando un sacco quindi se le trovate wow se poi sono stata da camomilla dove c'era praticamente uno sconto speciale quel giorno quindi praticamente mi sono data la pazza gioia ho svaliggiato tutto il negozio ok allora ho preso un po' di queste pelliccette ovviamente ecologiche perché ci piacciono ecologiche eco pelliccette bellissime no questa è nera ed è stupenda ragazzi io adoro le pelliccette e vi devo dire che mantiene caldissimo praticamente è molto semplice mi piace un sacco perché è semplice ed è corta ed è nera proprio classica quella basic che ci vuole poi avevano anche questa qua che è leopardata mi piaceva un sacco anche la commessa mi ha detto che mi stava benissimo quindi non potevo anche Dario mi ha detto che mi stava bene comunque è molto morbida e bella ragazzi devo dirvi che è di un materiale molto di qualità cioè proprio morbida e bella sembra quasi vera per quanto però è ecologica insomma e questa l'ho pagata a metà prezzo stava sui 150 io l'ho presa perché c'era il 50% di scudo quindi l'ho presa due a prezzo di una pagata tipo 70 e qualcosa è stupenda ragazzi è bellissima e porta il collo nero comunque adoro non vedo l'ora di farvi qualche foto su Instagram con questa lo so che la stavate aspettando e quindi ve la faccio vedere subito la borsa che ho preso da Elisabetta Franchi è bellissima e me ne sono innamorata la volete vedere? mettetemi un pollice in su ora e ve l'apro se no no comunque mettetevelo però ve la faccio vedere comunque ragazzi apriamo la borsa di Elisabetta Franchi andiamo a vedere ve la faccio vedere la apro con voi perché non ho ancora non l'ho aperta quindi ho riservato questa cosa a voi perché è bellissimo spacchettare insieme sembra ogni volta natale quando faccio questi video ragazzi che bella a me piace un sacco insomma spero che piaccia anche a voi dentro c'è il sacchettino guardate che bello ragazzi è troppo carina oh mio dio ditemi se non è stupenda è bellissima vi giuro che è troppo bella non è il mio genere è particolare rispetto al mio genere perché io uso sempre sapete le Gucci le Chanel quelle là comunque sono morbide questa è una borsa rigida e praticamente è tipo una si chiama Kiki se non erro ed è una borsa rigida tipo cofanetto che si può portare o a mano così e poi anche due tracole adesso vi faccio vedere è fighissima si apre in questo modo ecco così basta schiacciare qui ecco e poi dentro è anche abbastanza capiente dentro ci sono le tracole che adesso vi faccio vedere comunque è anche abbastanza capiente ragazzi allora acquistando questo capo contribuirai ad aiutare la lav vedete perché mi piace questo marchio nelle sue iniziative a tutela degli animali quindi loro danno sempre un contributo alla lav molto capiente vedete comunque ci vanno le cose ho provato anche col mio iphone plus mattone ci va dentro e vi faccio vedere come viene allora ci sono due tracolle una è così sottile vedete che si aggancia qui ed viene tipo così molto elegante da sera e poi questa tracolla è molto sottile quindi non è scomoda altrimenti c'è anche quella là di pelle quindi wow questa qua è bellissima e io non amo tantissimo le catene perché ho avuto una brutta esperienza con quella di Chanel sapete che mi fa un po' male sulla spalla però questa è sottile non fa male questa è molto bella è una tracolla che c'è anche il marchio sopra vedete com'è bella e così la borsa questa qua magari la si può mettere anche di giorno è una borsa molto versatile e per me è stupenda è la mia prima borsa di San Betta Franchi fatemi sapere cosa ne pensate voi fatemi sapere se vi piacciono i miei acquisti insomma mi piace tantissimo condividere con voi questi acquisti e fatemi sapere se vi piacerebbe un altro video perché come al solito ragazzi ho comprato ancora tantissime cose però il video viene troppo lungo quindi se ne volete un altro thumbs up se dice così thumbs up pollice in su vi aspetto su kaitashop.com per comprare tutti i miei fantastici gioielli nuovi che sono stupendi mi faranno fare un figurone nelle feste natale capodanno eccetera vi mando un bacio e aspetto i vostri commenti ciao 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 family ciao 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 ciao